Un concerto show esclusivo perché si tratta al momento dell'unica tappa in Puglia, la prima al sud. Granda Puglia apre le porte ad un appuntamento esclusivo con la musica sul palco, all'estito ad hoc, cantano, ballano, si divertono i Soul System, il gruppo vincitore dell'ultimo X Factor. Bel bagno di folla per la band rivelazione musicale dell'anno. I Soul System, Leslie, Samuel, Alberto, Davide e Joel hanno portato anche a Foggia il sound di pop mescolato a rhythm blues con note soul e pop che caratterizzano il loro progetto musicale. Dopo aver trionfato nella decima edizione del Talent di Sky, ora il gruppo è impegnato in un mini tour per promuovere il loro singolo inedito She's Like a Star, suonato per la prima volta sul palco del Mediolanum Forum di Assago nella semifinale del Talent. Il videoclip uscito lo scorso 14 gennaio è già un successo e disco d'oro. Una miscela esplosiva di genere e un'energia vitale davvero unica, il gruppo di Verona ha fatto colpo anche a Foggia, dove il centro commerciale inaugurato il mese scorso è stato preso d'assalto dai fan. Prossimo appuntamento sul palco dell'Ariston di Sanremo nella serata di giovedì 9 febbraio, quella dedicata alle cover. La band di Verona duetterà con il vincitore dell'edizione 2016 di Amici, Sergio Silvestre.